Allora buonasera ragazzi, bonsois, bonsois, e infatti in realtà più che bonsois dovrei dire bonnois, non so come si dice in francese, buonanotte comunque perché è mezzanotte e venti, infatti sono stravolto, non so se si vede dagli occhi, sono in una versione poi molto casalinga, con questa camicia molto fashion, sono qua in cucina, sto sistemando un po' di cose, mi sono anche organizzato per il video di cucina di giovedì, e sto registrando col cellulare ma vi spiego anche perché, non mi interessa molto la qualità video in sé, volevo fare una cosa molto semplice, molto intima quasi, senza musica in sottofondo sotto, mi interessa soprattutto in realtà che arrivi il messaggio che sto per dirvi, Intanzitutto mi appoggio perché sono stanco e quindi ho bisogno di un sostegno, e adesso vi dico in cosa consiste questo video, sostanzialmente mi hanno chiesto di partecipare ad una challenge, appunto questa Realized Challenge, che consiste in realtà, adesso io devo prendermi uno sgabello però perché ho le gambe che cominciano a cedere, sarà la vecchiaia, mi manderete a quel paese, però veramente sto qui così perché è una certa, anche ai 22 anni le gambe cominciano a cedere, Questa challenge è nata per promuovere una raccolta fondi molto importante, ovviamente la raccolta fondi è stata creata a causa coronavirus, affinché questo coronavirus se ne vada il prima possibile, dobbiamo fare veramente del bene ragazzi, io non so voi ma ogni mattina mi sveglio mi sembra un incubo, io vi giuro, credo sempre di essere in un brutto incubo, e poi quando realizzo che è realtà sto veramente male, ci rendiamo conto adesso quanto eravamo fortunati prima, io non vedo di abbracciare le persone, di fare i miei eventi, di vivere veramente la vita con più serenità, senza aver paura di essere contagiato o di contagiare qualcuno, dobbiamo fare del bene e con questa raccolta fondi ci sentiremo meglio, riusciremo a contribuire affinché questo coronavirus se ne vada il prima possibile, sostanzialmente voi dovete andare qua sotto il video, trovate un link qui sotto in descrizione, che vi permette di entrare su GoFoundMe, questa piattaforma che vi permette di donare anche una piccola cifra, non serve che voi doniate chissà quanto, anche un piccolo contributo andrà benissimo, farà comunque la differenza, io ovviamente prima di fare questo video l'ho già fatto, ho qua sotto qualcosa che vi, come dire, le info, serve per ovviamente favorire dei posti letto in più, in terapia intensiva, ma poi anche per condurre degli studi finalizzati ad identificare, ce l'ho qua scritto, mezzi di diagnosi più efficaci, bersagli terapeutici da colpire con farmaci, meccanismi molecolari e genetici della malattia associata all'infezione da coronavirus, quindi insomma sono ovviamente degli interventi molto importanti che dobbiamo fare, che devono essere fatti e grazie al nostro contributo sicuramente potranno essere realizzati, quindi per carità è bello essere a casa, cuciniamo, facciamo attività piacevoli, però ragazzi dobbiamo tornare alla normalità il prima possibile, grazie veramente tanto per quello che potrete fare, mi riempite sempre di soddisfazioni, spero che questa non sia un'eccezione e noi ci vediamo come sempre giovedì con una nuova videoricetta, io anzi mi dimentico che se no che challenge è, devo nominare qualcuno, nomino in realtà qualsiasi persona ecco a inoltrare questo messaggio importante, ma soprattutto nomino Carlo di Food Vlogger per non spezzare la catena ecco diciamo così, adesso vado a dormire perché sono a collasso e veramente ancora grazie per il vostro contributo, a giovedì ve l'ho già detto però ve lo ridico, ci vediamo giovedì, ciao!